è una gran bella bicicletta comunque con con i freni al disco che sono stati secondo me una grande rivoluzione nel mondo del ciclismo comunque sono montato con il cambio elettronico mi trovo davvero davvero bene una gran bella bici leggera voglio dire se tipo pinocia vinto sull'alpe d'oetz di certo va bene come bici si diciamo una geometra molto particolare con questo incastro si stanno sviluppando sempre in modo diverso ora si sta evolvendo sempre di più perciò vedremo queste sono le ruote che usiamo per allenarci ruote base per il percorrere usiamo le due race tubeless luce sempre sempre accesa per la sicurezza personale e nei giorni in cui c'è poca visibilità anche davanti perché è sempre sempre meglio averla si non vedo l'ora perché mi hanno parlato molto molto bene già con questa mi sono trovato bene perciò credo che l'altra sarà davvero super bene 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 Grazie a tutti